Ora l'economia in vista delle grandi riaperture di settembre sono diverse i temi critici per le imprese e i lavoratori marchigiani. Per parlarne allora in studio con noi Sauro Rossi, segretario generale della CISL Marche. Buongiorno, allora anche chi ha chiuso per le ferie riaprirà tra poco. Secondo voi quali sono i problemi e le priorità in vista di questo periodo? Buongiorno intanto a lei e alle persone in ascolto. Ci aspettano periodi densi di sfide e molto impegnativi. I cantieri in gioco sono diversi. Io direi che tra le priorità da considerare c'è soprattutto quello di dare speditezza agli investimenti per la messa in sicurezza del territorio per evitare tragedie come quelle che hanno causato le recenti alluvioni. Successivamente c'è da dare ulteriore accelerazione agli interventi per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma e poi arrivare a sostenere in maniera adeguata tutto il processo di ammodernamento nei vari settori puntando sull'innovazione tecnologica ma soprattutto sulla formazione degli addetti. C'è poi da tenere in considerazione l'importante margine da dare agli investimenti in scuole e sanità e poi far sì che anche nelle marche ci sia una tutela delle persone e delle famiglie in merito al potere d'acquisto perché l'inflazione ancora è molto incidente sulle nostre realtà e c'è bisogno di intervenire adeguando salari e soprattutto tenendo sotto controllo prezzi, rette e tariffi. Ecco proprio su questo ci è parlato tanto di salario minimo, qual è la vostra posizione? Più che di salario minimo nelle marche come in Italia bisogna parlare di adeguatezza complessiva dei salari. Noi abbiamo una regione in cui il livello medio dei salari è inferiore alla media nazionale ma abbiamo un fenomeno nazionale che vede nell'ultimi 30 anni una perdita di 10 punti percentuali dell'incidenza dei salari sul prodotto interno lordo a beneficio di profitti e rendite. Va invertita questa rotta, per farlo serve un intervento strutturato su più piani a cominciare dall'estensione della contrattazione a quei settori che non sono coperti e riguardano circa il 7% di lavoratrici e lavoratori in Italia. Posso fare qualche esempio di questi settori? Sì, sono settori legati per esempio ad alcune aree della logistica, alcune aree di servizi alla persona che non vedono applicata ad oggi nel livello di contrattazione nazionale adeguato. Dove opera già la contrattazione bisogna intervenire perché ci sia una migliore distribuzione della produttività a favore di lavoratrici e lavoratori. Poi serve anche una fiscalità di vantaggio sul lavoro e un contrasto del lavoro nero e del lavoro precario. Grazie mille allora a Sauro Rossi per essere stato con noi.